Allora Gaia e Alessia aprono tutte e due le braccia a ruotazione del busto. Salve, buonasera, è Rodrigo Figueredo, sono un artista italo-venezolano. Ingi, ti sembra tutti qua anche a superare i propri limiti e le proprie paure? Io non ho paura. E tu? E non ho limiti. Sto cercando un muro per fare un murales. L'arte è un'arma di creazione massiva. E pa 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 spara murale saper tutto. Andiamo! Tutti al lavoro! Uff! Uff! L'ho, 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 l'ho. Fai ma dia!